Buongiorno amici nella fede del diavolo, buongiorno a tutti, io sono il vostro Nero, Rosso Nero, che vi parla, ascoltate cosa esce della mia bocca. Allora, come avevo promesso ieri sera, volevo fare un video speciale dedicato soltanto all'alvitraggio del Milan Roma 3 a 3. Non ne ho parlato ieri sera perché sarebbe stato un festival di bestemmie. Di ogni salsa, di ogni colore, di ogni dimensione, di ogni categoria, capito? Ho sputtato ogni santo che conoscevo e neanche me ne inventavo degli altri. Perché a parte il nervosismo del pareggio 3 a 3 e della sfortuna che abbiamo avuto perché in complesso abbiamo militato più noi, di un'ottima Roma, l'albitraggio di Giacomelli è stato vergognoso. Un arbitraggio nemmeno da Serie B. L'arroganza della persona che non vuole nemmeno andare a vedere il VAR in due occasioni di errore, chiaro, perché sia quello che è stato dato alla Roma che quello che è stato al Milan, non esistevano mai. Non erano rigore questi mai. Vai a vedere il VAR e dice che cazzo che è bischierata la mia. Quindi quello che dico io. Allora, abbiamo un instrumento che non è che dice che ti fa vedere che sei il cazzo più piccolo. No. Non è che dice che sei meno bravo o più bravo. Anzi, per me adesso il vero arbitro bravo è quello che anche se è sicuro di una cosa va a vedere al VAR per essere completamente sicuro al 99,99%. Perché sia uno strumento per aiutarti, adoperalo. Io ho la macchina, vedete questo? Ho la macchina per andare al lavoro, per aiutarmi a fare le mie faccende. Ho la macchina. Se io mi nego di adoperare la macchina e faccio a tardi degli appuntamenti perché non ho la macchina, avendo la macchina è perché sono un pirla. Quindi a questo punto, arbitro Giacomelli, sei un pirla. E il tuo arbitraggio ha fatto schifo. E se il Milan ha paregliato è anche per colpa tua. Perché se la partita rimaneva nel 2-1 senza quel rigore del cazzo, non so come andrà a finire. Detto questo ragazzi, iscrizione al canale, like, condivisione del video, campanella degli aggiornamenti, commento qua sotto. E alla prossima, dal vostro nerdi fiducia.